ciao caritmi oggi volevo farvi un video sul mio albero di limone dovrebbe essere passato circa un anno dall'ultima volta che l'ho piandato non ho riguardato la data su youtube però adesso vi metterò delle clip dei video che avevo fatto a me piacciono molto questi video dove si vede l'evoluzione della pianta da sempre in poi e niente questa è la mia come vedete non è una pianta perfetta è una pianta reale è un limone che vive a padova quindi forse non è il suo ambiente naturale l'ambiente più adatto però sì comunque è cresciuto molto rispetto a prima me lo ricordo da quando era così diciamo e poi ci sono anche le clip mi piace vedere che adesso sta mettendo la lignina sta dignificando qui alla base ci sono un po di foglie bucate un po di foglie gialle però boh gli danno anche un aspetto rustico e niente questo video è piuttosto breve perché non ho molto da dire la mia pianta sta crescendo io ne sono contento e volevo condividerla con voi grazie aver guardato questo video ciao ciao